Presidente Ghibellini, oggi siamo qui per fare un bilancio che anno è stato il 2021 rispetto al 2020. Ma è stato un anno decisamente più positivo rispetto al 2020. Le nostre aziende, come abbiamo dimostrato già l'anno scorso, sono aziende sane che affrontano il momento con una grossa spinta. Dunque noi dobbiamo registrare tendenzialmente un segno più verso tutti i nostri settori. C'è chi ha sofferto ancora il momento, soprattutto legato alle difficoltà di materia prima ed energia, però sostanzialmente, devo essere sincero, è un anno positivo per tutti quanti noi. A proposito di rincaro prezzi, le materie prime, sì, in questo momento in particolare l'energia, soprattutto il gas. E questo rischia di inficiare la voglia di ripresa degli imprenditori. Sì, sicuramente il portafoglio in questo momento, se posso buttarle in una battuta, la voglia non ci manca mai perché in questo senso siamo abituati a fronteggiare qualsiasi genere di rischio. È chiaro che lo si riesce o meno a valutare delle volte. In questo momento però, sì, l'energia diventa un fattore preponderante per tutte quelle che sono le nostre aziende. Si parla addirittura anche di fermare impianti con ordini e commesse perché costerebbe di più produrre che non stare fermi. Dunque in quest'ottica dobbiamo assolutamente prendere atto, non solo noi come associazione o come aziende, ma anche a livello locale politico, a livello generale italiano, che è un qualcosa che è destinato a durare. Non è un movimento sussultorio, come ho cercato di definirlo, legato a questi semestri, ma sarà sostanzialmente tendenziale per tutti gli anni a venire. Dunque l'energia costerà sempre di più, dobbiamo fare in modo di trovare delle contromisure adeguate sia noi come azienda che come governo locale e nazionale per fronteggiarle. Chiudiamo con una nota che riguarda l'emergenza sanitaria. Il Green Pass all'interno dell'azienda è stato digerito abbastanza bene, no? Sì, devo dire la verità. In tutte le nostre aziende ci sono state chiaramente alcune sollevazioni, ma sono regole che noi dobbiamo solo eseguire e di conseguenza abbiamo applicato all'interno delle nostre strutture. Come medio-piccole dimensioni abbiamo avuto problemi anche relativi, devo essere sincero, però speriamo che servano. Questo è un po' il nostro augurio, stiamo vedendo che comunque i casi aumentano, ma l'incidenza magari a livello ospedaliero un po' si sta attenuando rispetto all'anno scorso. Dobbiamo essere anche in questo caso ottimisti e sperare, non dico di essercela messa alle spalle, ma comunque di aver scavallato il momento più difficile per tutti quanti noi. Grazie a tutti.